In principio era l'unica ad esistere, una sola infinità nera. Poi l'infinità esplose e finalmente l'oscurità fu squarciata e riempita di vita. La fine del mondo è arrivata, ci sta alle calcagne! C'è un'onda di antimateria che sta annientando questo universo. Distrugge tutto ciò che trova. Cal, Lois, Argo è in pericolo, dovete andare bene subito! Quando intersecherà di nuovo il nostro sistema solare? I risultati saranno devastanti. Come facciamo a proteggerla da un nemico di cui non conosciamo nulla ma che sta argando? Niente più futuro, niente di niente. Quelle persone hanno bisogno di aiuto e noi stiamo facendo del nostro meglio. Batwoman, il multiverso è in grave pericolo, servi tu. Quando la torre verrà attaccata devi essere qui per proteggerla. All'alba dei tempi, Monitor mise delle torri quantistiche sulle terre come ultima linea di difesa. Ora ha tutto più senso. Abbiamo viaggiato fino a una terra parallela nel futuro. Argo è scomparsa. La terra è in pericolo. Ho qualcosa per te. Che cos'è? È l'ora di porre fine all'era degli eroi. In questa crisi io sono destinato a morire. Se non fermiamo l'onda di antimateria qui, avanzerà fino al prossimo universo. E a quello dopo. Ti ho portato qui per salvare delle vite. Non combattere con i mostri se non vuoi diventare un mostro. No, no! E a quello dopo. Che cos'è? Che cos'è? No!